Professore, oggi si presenta a Milano, a Projectland, ha deciso di realizzare questo incontro sull'intelligenza emotiva e sull'altra professione, ma che potremmo definire anche alta professione. Quali sono i contenuti, da un punto di vista teoretico, che lei svilupperà oggi in aula? Allora, partirò sicuramente dal concetto di relazione che è fondamentale. Per molti anni abbiamo, diciamo, trasmesso un'idea di essere umano che nasce autistico, isolato dal mondo degli altri e che progressivamente impara ad aprirsi alla relazione con l'altro. Quello che è emerso chiarissimamente da una mole impressionante e convergente di dati provenienti dalla psicologia dello sviluppo, dalle neuroscienze, dalle scienze cognitive, è un'immagine diametralmente opposta. Cioè, la relazione è costitutiva dello sviluppo della nostra identità. Farò vedere un filmato che mostra l'interazione di due feti gemelli in utero, dimostrando come già prima della nascita il nostro cervello programma i nostri movimenti in modo diverso quando andiamo a toccare l'altro rispetto a quando tocchiamo noi stessi. Questo poi continua con l'imitazione neonatale, in cui ci sintonizziamo immediatamente con la figura adulta di riferimento, la madre, i genitori. E da lì in poi, diciamo, ci sono tutta una serie di pratiche mimetiche e imitative che sono fondamentali per acquisire conoscenze, pratiche che ci aiutano a crescere nella nostra vita quotidiana. Parlerò anche dei meccanismi neurofisiologici che sono alla base di queste competenze relazionali dell'uomo. Diciamo che a partire dalla scoperta dei neuroni specchio che noi abbiamo fatto nei primi anni 90 del secolo scorso, ormai dobbiamo dire, questo ha in qualche modo rimesso al centro dell'attenzione la nozione di un meccanismo, l'empatia, che assieme all'intelligenza emotiva era stato un po' messo nel cassetto per molti anni in cui prevaleva un'idea molto astratta, molto dipendente dal linguaggio dell'intelligenza sociale. Diciamo che dalla scoperta dei neuroni specchio in poi, torna al centro la corporeità, tornano al centro questi meccanismi che io chiamo di simulazione incarnata, che fin dai primi attimi della nostra vita e poi per tutto il suo corso, ci consentono in misura maggiore o minore, perché queste competenze le abbiamo in quantità differenti gli uni dagli altri, siamo differenti anche sotto questo profilo, questi meccanismi impliciti che sono preverbali, non linguistici, ci mettono nelle condizioni più o meno bene di sintonizzarci con il mondo interiore dell'altro, di capire che cosa sta provando, cosa sta facendo, perché sta facendo quello che sta facendo. Ovviamente questo è solo una dimensione della relazione intersoggettiva, ma è una dimensione sicuramente fondamentale che può trovare forti applicazioni nel modo con cui noi ad esempio interpretiamo il potere dei media, oggi il potere delle immagini, che costituiscono oggi direi il veicolo principale di informazione su quello che chiamiamo reale e soprattutto, come discuteremo nel convegno di oggi, le relazioni sul mondo del lavoro.